Elisabetta Barbuto, componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, ha incontrato i dirigenti dell'ANAS con i quali ha affrontato l'annosa tematica della strada statale 106 Ionica, in prospettiva dell'imminente incontro di alcuni rappresentanti della deputazione calabrese con la segreteria tecnica del Ministero, al fine di dare impulso ai progetti che riguardano la cosiddetta strada della morte. Non solo la statale 106, tuttavia in Calabria è una strada pericolosa, anche la statale 18 Tirrenica viene annoverata tra le cinque strade più pericolose d'Italia ed è stata inserita fin dall'inizio del mese di luglio nella settima edizione di Adotto una strada, iniziativa promossa dalla Fondazione Ania insieme all'Arma dei Carabinieri, mediante la quale è stato preventivato un maggior numero di controlli da parte delle forze dell'ordine nei mesi più caldi e quindi più critici per l'impennata di sinistri che si ferifica nel periodo estivo. Per richiamare l'attenzione della cittadinanza e sensibilizzare le istituzioni alla risoluzione del problema, il Metap di La Mezza Terme, comprensorio da sempre impegnato a denunciare la pericolosità della strada tirrenica, ha organizzato nella giornata del 13 luglio un flash mob che si è svolto in uno dei tratti più vulnerabili della statale, dove sono in continuo aumento le vittime, specie pedoni e ciclisti. È precisamente in prossimità del ponte che collega il Comune di Gizzeria con quello di La Mezza Terme, dove qualche anno fa si consumò la strage di ben otto ciclisti. Sottolineano ancora gli organizzatori del flash mob che il problema contingente potrebbe essere risolto con la realizzazione di una pasterella a ridosso dello stesso ponte, ma che l'esigenza prioritaria è quella di ottenere una messa in sicurezza di gran parte della strada statale. Nei prossimi giorni, ha dichiarato la deputata Barbuto, contatterò la direzione Anas Calabria, pur avendo avuto oggi, nel corso del colloquio, la massima disponibilità dei tecnici nazionali che si sono dichiarati disponibili ad incontrare i cittadini che si stanno interessando del problema al fine di valutare le loro richieste. Del problema, ha ancora dichiarato la deputata, interesseremo anche la segreteria tecnica del Ministro.